Siamo qui allo stand Sony, abbiamo appena visto Ratchet & Clank Fissure e Cracking Time, questo nuovo episodio di Ratchet & Clank ovviamente esclusivo PlayStation 3, adesso qui con un programmatore gli chiediamo quello che ci possiamo aspettare da questo nuovo episodio. Ciao, qui, qui ci siamo. Quindi cosa possiamo aspettare da questo nuovo Ratchet & Clank? Beh, possiamo aspettare di un'ottima arma, di un'ottima gazzetta e di più di un'emphasia sulla storia, e ci siamo arrivati a chi è Ratchet & Clank, abbiamo avuto la storia che abbiamo iniziato in Tools of Instruction e continuo con Quest for Booty, e ci sarà il nostro 4th generazione di PS3, quindi abbiamo avuto più di acqua, di un'esercizio, più di effetti, distruttibili e un'ottima valutazione di riprendimento, quindi le persone che giocano per 4 o 5 volte, come un'ottima di fare, ci saranno offriendo un'ottima cosa, e stiamo mostrando un'ottima sampling qui a E3, abbiamo molto più da mostrare nel gioco, è un'ottima grande gioco. In pratica ha detto appunto che seguirà bene o male la storia del precedente Ratchet & Clank, quindi nuove cose su chi sono veramente Ratchet & Clank, e soprattutto quello che ha posto attenzione che questo è il loro quarto gioco, quarta generazione, insomma il gioco di quarta generazione PlayStation 3, quindi nuovi ambienti distruttibili, nuovi effetti, un motore ancora più potenziale e soprattutto la possibilità di rigiocare il gioco, cioè hanno dato un grosso focus sulla possibilità di rigiocare il gioco più e più volte, addirittura 4 o 5 volte per scoprire tutto quello che nasconde, quindi proprio il platform ideale. Detto questo ormai lo aspettiamo, addirittura d'arrivo se non sbaglio entro fine anno. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. 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 Grazie.